Innanzitutto un buongiorno a tutti e un ringraziamento ai docenti e agli studenti che nonostante le difficoltà logistiche sono qui oggi presenti. Spero davvero che possa essere un evento che possa far riflettere, non pretendiamo davvero di riuscire in un solo giorno a dare tutte le informazioni possibili, ma possiamo innescare un percorso di riflessione. Io porto inizio tutto i saluti del direttore generale Giuliano Pazzoni che proprio per problemi logistici legati allo sciopero non è potuto essere qui presente perché era in Ligure doveva venire oggi ma non ce l'ha fatta. E mi faccio portavoce della sua proposta sensibilità per tutte le iniziative che davvero fanno innescare questi momenti di riflessione, soprattutto momenti di riflessione condivisi che coinvolgono tutte le istituzioni del territorio e coinvolgono soprattutto le famiglie e docenti che hanno davvero insieme la mission educativa di formare dei cittadini, cittadini che devono essere protagonisti nella nostra società e cittadini che sono protagonisti nel web. E quindi ovviamente noi come istituzioni dobbiamo davvero dare le informazioni, formare, poi far sì che i giovani facciano delle scelte consapevoli. Poi naturalmente le scelte saranno di voi studenti, saranno le vostre scelte con le vostre responsabilità. Noi abbiamo il dovere di informarvi sui rischi che possono essere connessi a questo strumento. Io ritengo che internet e social network rappresentino davvero una rivoluzione sia nella comunicazione sia anche nel vivere di ogni giorno. Io ricordo quando circa una decina anni fa incominciavo a chattare con C6, che magari non esiste nemmeno più, sicuramente rappresentava un cambiamento, rappresentava le prime forme di comunicazione non telefonica, diventava magari una comunicazione più impersonale, però permetteva di mantenere i contatti anche magari con persone che magari erano lontani. Si usciva dalle scuole superiori, quindi per l'universitario permetteva in qualche modo la messaggistica istantanea di tenersi in contatto. Sicuramente da allora a oggi sono cambiate molte cose, ho visto davvero i cambiamenti, li ho vissuti in prima persona. Prima si parlava anche di anonimato, di responsabilità delle proprie azioni, in realtà purtroppo come ben sanno anche le forze dell'ordine esistono anche altri metodi per riuscire in qualche modo a sfuggire, a rintracciare chi commette qualche reato. Sappiamo benissimo che esiste il deep web, quindi le forze dell'ordine hanno davvero un compito davvero difficile per cercare di riuscire a far sì che i cittadini e gli studenti possano davvero crescere, crescere davvero in modo attivo, cogliendo le opportunità che ci offre internet. Io sono qui in veste sia come ufficio sesto che si occupa di studenti, ma anche come ufficio settimo che si occupa di stai informativi. Noi come ufficio scolastico regionale abbiamo ritenuto fondamentale comunicare e comunicare bene. Abbiamo anche un account twitter come pubblica amministrazione e sicuramente sarà un mio compito cercare di utilizzarlo al meglio per comunicare meglio con i cittadini. Sicuramente i social network più diffusi ormai sono tantissimi, si va da facebook a myspace, si va da twitter, ce ne sono davvero decine, sicuramente ce ne saranno anche qualcuno che gli studenti qui presenti conosceranno meglio di me. Ognuno ha i suoi pregi e naturalmente ha anche i suoi rischi, qualcuno è magari finito anche sulle cronaca recente in Inghilterra e Stati Uniti proprio perché spesso questi server, social network appunto hanno server in paesi stranieri e poi sfuggono alle nostre leggi. Innanzitutto volevo partire dal rapporto tra la propria privacy e i social network, perché spesso si posta qualcosa, un messaggio, una foto, però non si sente conto che in realtà quel dato rimarrà lì per sempre, perché al di là del fatto che molti social network consentono di cancellare l'account, prima in realtà non era possibile, alcuni permettono solamente di disattivare, in realtà comunque al di là di disattivare o cancellare l'account, le informazioni rimarranno nei server nella realtà dei social network e non abbiamo la certezza che magari non possano essere riutilizzate. Ho detto appunto della sede all'estero dei social network, qualcuno, magari già quelli che sono presenti negli Stati Uniti forse ancora si riesce a instaurare una forma di collaborazione tra le nostre forze e l'ordine, ma molti hanno una sede legale anche in paesi come l'Ucraina, è davvero anche difficile riuscire a mettere in atto quella collaborazione con le forze d'ordine locali per cercare di risalire ai colpevoli. Quindi naturalmente ricordiamoci del problema della privacy quanto tagghiamo qualcuno in una foto, abbiamo chiesto il suo consenso, è un quesito che potrebbe essere fondamentale anche per evitare anche pendenze giudiziarie sia civili sia penali. E naturalmente poi un fatto rilevante che non dobbiamo dimenticare, io sono assolutamente per i social network, l'udizio di internet, ma ricordiamo che le multinazionali, quale Facebook, Twitter, che sono magari quelli più conosciuti, anche Google Plus, permettono ai social network di finanziarsi, cioè la nostra vita privata, postata su internet, permette ai social network di finanziarsi, perché veniamo profilati, siamo destinatari di pubblicità ammirate, quindi in qualche modo siamo noi, la nostra vita privata è il profitto dei social network. Sicuramente facendo questa riflessione, probabilmente io qualche anno fa, anche io sono stato giovane, più giovane di adesso, e anche un po' ribelle, non avrei forse tanto accettato che la mia vita privata possa finanziare una multinazionale. Probabilmente è una riflessione che va fatta, perché è la nostra vita privata, quindi occorre sicuramente usare la giusta accortezza. Poi, rivolgendomi magari agli studenti, mi chiedo se il vostro vicino in casa o il vostro professore potrebbe leggere, potesse leggere quello che ha scritto online, scrivere le stesse cose, nella stessa forma, sicuramente ci rifletterete un po' di più. E poi, anche un'altra considerazione, tutto ciò che postiamo su social network potrà essere utilizzato anche nel momento in cui è entrato nel mondo del lavoro. Negli Stati Uniti la maggior parte delle agenzie che va alla ricerca di talenti o comunque di, in qualche modo, di lavoro, quindi che offre lavoro, usa i social network per acquisire informazioni personali. Quindi tutto ciò che viene messo su internet è a disposizione anche nel momento in cui si va a cercare un certo profilo. E ovviamente può, in alcuni casi, può davvero essere anche negativo. Ci sono stati anche diversi casi di persone licenziate, soprattutto negli Stati Uniti, per ciò che avevano postato sui social network. E oggi come oggi, trovare il lavoro è difficile. Perderlo perché magari si è messo, si è sbandierato qualcosa. Un pensiero legittimo, magari personale su internet, davvero è anche difficile da accettare. Quindi, per questo, usate sicuramente la maggiore accortezza. Va utilizzato, però ci sono delle informazioni, dei giudizi che magari non possano essere espressi perché rimarranno per sempre. Su cyberbullismo, che in realtà è una tipologia di bullismo, ci sono diverse tipologie. Abbiamo il flaming, quando si invia i messaggi violenti online. Abbiamo l'arrestment, quando ci sono le molestie. Anche la denigrazione. Quando ci sostituisce anche un'altra persona. Quando si rivela informazioni personali. Oppure l'inganno per cercare di ottenere la fiducia altrui, per poi pubblicare le sue informazioni o foto personali. Poi, qualcuno è finito anche sui giornali in questi giorni. Abbiamo anche il cyberstalking, il sexting e il grooming. Recentemente, una ragazzina ha davvero rischiato di finire in una rete di pedofili proprio perché, in qualche modo, si è fidata di qualcuno che è conosciuto su internet. Giustamente, l'adolescenza è un'età particolare. Quindi, non è sempre facile distinguere chi davvero offre, davvero in modo disinteressato, il proprio effetto, la propria disponibilità. Sicuramente, i genitori devono avvertire dei pericoli davvero che si corre online. Ripeto, è uno strumento indispensabile per comunicare, ma occorre naturalmente che i genitori siano informati, non dico più dei figli, ma almeno quanti figli, che conoscano lo strumento, che, conoscendo lo strumento, possano avvertire di opportunità e di rischi. Se non lo conoscono, ovviamente, delegeranno tutto quanto al computer, ma il computer non esprime nessun tipo di giudizio e non può dare nessun tipo di aiuto, salvo, naturalmente, quei consigli su internet che spesso vanno verificati, come si parlava prima. Alcuni dati, presi dalla ricerca dei ragazzi, e il saperebullismo condotto da Ipsos per Save the Children. I social network sono la modalità di attacco preferita dal saperebullo. Sicuramente, spesso vengono creati gruppi contro, poi vedremo anche un caso finito anche in tribunale. Si possono anche diffondere immagini o foto anche denigratorie. Si può escludere, c'è anche la forma di esclusione. E, tra l'altro, l'83% dei ragazzi ritiene che l'utilizzo di internet o del cellulare peggiori la situazione del bullismo, e quindi rende più grave l'aggressione per chi la subisce. Le motivazioni sono, tra l'altro, diverse. Qualcuno in Piemonte si fa riferimento al fatto perché non ci sono limiti per quello che si può fare udire. Beh, sicuramente rispetto a un'azione concreta, il web dà un margine davvero di azione molto più ampio. Altra motivazione è perché può avvenire in qualsiasi momento della giornata, non è necessario un contatto fisico, può venire di giorno o di notte. Tra l'altro, il strepebullismo è caratterizzato spesso da una sorta di inversione dei ruoli tra la vittima e il bullo. Spesso c'è inizio di un'azione da parte di un soggetto che magari poi l'altro, che in realtà inizialmente la vittima diventa il bullo, quindi c'è un'inversione dei ruoli. Le motivazioni per cui si commettono questi atti, nella ricerca menzionata, in Piemonte si fa riferimento al fatto alle caratteristiche fisiche, a differenza magari di un 56% della Sicilia e 67% dell'Italia, quindi c'è una maggiore attenzione in Piemonte su questo aspetto. Quindi in realtà, sicuramente sono diverse le motivazioni che conducono a commettere episodi di cyberbullismo, ma le istituzioni hanno dovere di attenzionare tale fenomeno e cercando davvero di prevenirlo e di informare. Il MIUR ha più volte espresso la propria ferma volontà di contrastare con ogni mezzo e ogni sede le forme di violenza, tra cui anche il cyberbullismo, e tra l'altro è stata inviata qualche anno fa, nel 2007, una direttiva che praticamente invitava le scuole a segnalare naturalmente tramite l'ufficio scolastico regionale all'amministrazione centrale per fare in modo che il MIUR si costituisse parte civile, quando le episodi naturalmente avvengono a scuola. E proprio su questo punto volevo menzionare un aspetto fondamentale. Sicuramente la scuola e la famiglia hanno questa corresponsabilità educativa. Io parto dal presupposto, come sancisce anche l'articolo 30 della Costituzione, che innanzitutto sono i genitori, la responsabilità primaria dei genitori. E' indubbio che, stando gli attuali ritmi di vita, che ci impongono davvero spesso di non dedicare la giusta attenzione ai nostri figli, la scuola sicuramente ha assunto un ruolo molto importante. Però le due anime, in questo caso, devono essere coese, devono avere la stessa mission, devono avere gli stessi obiettivi, non possono divergere. L'azione della scuola, se è impostata, non può essere in qualche modo delegitimata anche dai genitori o viceversa, deve essere un comunione di intenti. Altrimenti, se diamo dei messaggi diversi, che non sono davvero in qualche modo univoci, allora giustamente lo studente perde i punti di riferimento. E proprio per questo, occorre ribadire che c'è una responsabilità dei genitori, come CUP in educando, quindi anche quanto un fatto di bullismo, di cyberbullismo, avviene a scuola, potrà esserci la responsabilità del docente, qualora non abbia vigilato, quello altrimenti va verificato, o qualora la scuola non abbia adottato quelle misure organizzative tale da prevenire questi episodi, ma non perché lo studente è affidato alla scuola, il genitore è esente da qualsiasi responsabilità, assolutamente, c'è la culpa in educando. Il genitore, come ha sancito più volte anche la Cassazione, ha davvero proprio l'onere di dimostrare che ha impartito al proprio figlio quei principi, quei valori, tali da consentire un equilibrato sviluppo psico-emotivo. Quindi sicuramente il fatto che sia affidato a un terzo, in questo caso la scuola, non le sono da qualsiasi responsabilità, ma assolutamente, come ho sottolineato, deve dimostrare di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, nonché di aver esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all'età. Naturalmente parlavo prima della responsabilità dei docenti, quella presente nel momento in cui è affidata a scuola, ma potrà essere concorrente con quella dei genitori. Come strumenti, parto dal patto di corresponsabilità, che non deve rimanere, naturalmente, un semplice addebbimento burocratico delle nostre scuole, deve essere qualcosa di vissuto, davvero interiorizzato, sia dalla scuola sia dalla famiglia. Con il patto di corresponsabilità, entrambi si mettono in gioco, stabiliscono obblighi, doveri, diritti, e quindi lo studente può davvero avere un punto di riferimento che è univoco, quindi scuola e famiglia lavorano insieme, come ritengo che sia importante fare. La scuola ha bisogno della famiglia, e la famiglia ha bisogno della scuola, in questo percorso di crescita delle giovani generazioni. Facendo una piccola ricerca, in realtà c'è già qualche sentenza che riguarda il cyberbullismo, tra l'altro che riguarda minori, e quindi, rivolgendomi magari agli studenti presenti, anche genitori e anche docenti, questo è il caso di alcuni adolescenti che avevano creato un gruppo contro, diciamo, una persona, e quotidianamente postavano ingiurie e minacce su questo gruppo, nel confronto di una persona. Faccio una piccola precisazione, questa persona in realtà inizialmente era stata lei stessa protagonista di alcune offese nei confronti poi di alcune persone che avevano creato il gruppo, quindi da qui proprio l'inversione tra vittima e bullo. Bene, il Tribunale di Teramo, nel 2012, ha condannato i genitori, quindi in sede civile, perché? Perché in realtà c'è il fatto che queste offese, queste ingiurie, sono avvenute per diversi giorni, si parla più di tre giorni, quindi il fatto che c'è stata una persistente continuità condotta offensiva fa in tutto emergere che non c'è sicuramente la vigilanza dei genitori, ma fa emergere anche il fatto che non c'è stata nemmeno quell'educazione proprio a interagire positivamente con gli altri, quindi mancano entrambi gli elementi, quindi la condanna è stata sia per la mancata vigilanza sia per colpa in educando. Quindi proprio per ripetere il fatto che le nostre azioni hanno delle conseguenze, questo va sicuramente fatto capire, e tra l'altro questa è soltanto la condanna civile, naturalmente rimangono le responsabilità anche penali, che sono personali, quindi se il minore è in età tale da poter essere condannato, rischia davvero di far rimanere nel proprio casellario giudiziale, una condanna magari per episodi per cui non abbia riflettuto, perché probabilmente la distanza fisica, il fatto che tutto ciò può avvenire in un apparente anonimato, quando in realtà non è assolutamente vero, sicuramente non permette di capire le conseguenze delle proprie azioni, quindi genitori e scuola hanno il dovere davvero di fare vincere quali sono le opportunità e i rischi del web e del social network. Nello stesso senso va il Tribunale di Monza nel 2010 e anche quello di Livorno, che hanno equiparato sotto il profilo sanzionatorio alla difamazione connessa con il mezzo della stampa quello che avviene su un social network, proprio perché raggiungono un numero illimitato di persone, potenzialmente infinito, quindi non è possibile controllare la diffusione eventualmente di foto, di messaggi con ingiuri o minacce, e lì assolutamente il bacino è potenzialmente infinito. Io concludo con le azioni dell'ufficio scolastico regionale per il Piemonte che da diversi anni cerca di portare avanti tutta l'attività di prevenzione del bullismo e del sapribullismo e abbiamo un osservatorio permanente regionale per la prevenzione del bullismo con tutti gli stakeholder che hanno come mission educativa davvero quella di crescita e armonica dello studente e del minore abbiamo anche un gruppo tecnico operativo che opera in maniera più snella rispetto all'osservatorio perché l'osservatorio davvero coinvolge tutti gli stakeholder e abbiamo costituito una rete regionale di scuole finalizzate alla prevenzione del bullismo che sicuramente permette di mettere insieme le buone pratiche delle scuole e abbiamo effettuato una call for proposal qualche anno fa anzi nel 2013 in realtà quest'anno dove abbiamo finanziato dei progetti delle scuole per la prevenzione del cyberbullismo e l'uso consapevole delle nuove tecnologie e la call for proposa è rivolta proprio a questa rete regionale che abbiamo costituito alle scuole capofila abbiamo svolto in collaborazione sempre con altri enti altri progetti il progetto Safety Kids at School con Assos Security e CSP innovazione nelle Citi e Cenere di Pisa con l'obiettivo di formare dei docenti all'uso consapevole delle nuove tecnologie poi abbiamo collaborato con la regione Piemonte per il suo progetto di DEMUVAP e con le forze dell'ordine naturalmente che prevede incontri formativi con i genitori con i docenti ed i laboratori con gli studenti circa due anni fa abbiamo realizzato con il fondamentale apporto dell'arma dei carabinieri una proposta dell'arma dei carabinieri una serie di incontri informativi per i docenti sulle responsabilità connesse alla funzione di pubblico ufficiale l'attività davvero grazie all'impegno dell'arma dei carabinieri ha coinvolto ben 2.000 docenti in tutta la regione e di questo ringrazio ancora l'arma che davvero con la sua diffusione capillare sul territorio è riuscita davvero a coinvolgere e a far partecipare e suscitare gli interessi dei docenti che spesso si trovano in difficoltà nel nevincere quali sono le proprie responsabilità poi tra l'altro stiamo per iniziare la collaborazione con la polizia municipale che ringrazio e la città di Torino per una serie di incontri destinati alla prevenzione dei rischi da nuove tecnologie quindi partiranno a breve il target è gli studenti di secondaria e di secondo grado e quest'anno scolastico rientra tra i nostri impegni anche quello di realizzare un monitoraggio sul bullismo e sabribullismo e cercheremo davvero di poterlo realizzare e di utilizzare tale monitoraggio per evincere quali sono i bisogni del territorio bisogna naturalmente conoscere per avere la governance date informazioni non sono non dovreste fine a se stessi una ricerca un'analisi deve essere davvero finalizzata affinché le istituzioni in questo caso noi ma anche tutti i membri dell'osservatorio possano davvero far convergere le relazioni per una governance comune io non mi resta che ringraziare davvero i partner con cui ho condiviso davvero diversi momenti in questi tre anni che sono l'ufficio scolastico e ringraziare nel mio ufficio la professoressa Carpi la professoressa Damiani la dottoressa Anna Massa che si occupano da un lato con un ufficio e dall'altro mettendo insieme gli aspetti più didattici anche pedagogici e anche quelli naturalmente statistici e informativi è importante davvero conoscere agire noi come ufficio scolastico siamo davvero disponibili e aperti verso le istituzioni per rimettere insieme delle azioni che possono davvero essere il bene per una crescita davvero equilibrata dei nostri studenti detto questo un ringraziamento ancora ai docenti e ai dirigenti scolastici che sono qui presenti e ai studenti e anche per la pazienza per suscitare l'interesse dei studenti ho fatto in modo che sia previsto un piccolo intervento del professor Mandarano poi più tardi e anche uno studente Matteo che cercheranno di suscitare i vostri interessi ancora di più e soprattutto anche farvi riflettere detto questo un buon lavoro grazie 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 grazie